Allora stiamo preparandoci per il nostro bellissimo incontro del 7, 8 e 9 giugno. E ho scritto per l'occasione un nuovo canto che stavo accennando, che possa fare da inno non solo per questa giornata, ma anche per l'anno giubilare che stiamo per cominciare. Un inno alla speranza, alla gioia, all'entusiasmo, che spero veramente da questo incontro possa scaturire. E allora vi aspetto perché stiamo ormai all'ultimo mese, ci manca poco per il nostro incontro e vi aspetto numerosi. So che alcuni hanno ancora l'intenzione, si stanno iscrivendo, lo facciamo domani, io vi dico facciamolo presto perché anche la difficoltà a Roma di trovare posto in quel periodo sarà grande, per cui conviene prenotare subito e poi perché dovete fare le prove, io vi devo mandare le musiche per fare la preparazione del concerto dell'8 e della messa del 9. Per cui a presto e mi raccomando, l'inno che ho scritto è un inno sulla speranza, sulla gioia, sull'entusiasmo di portare speranza e gioia al mondo. Ecco, questa è l'intenzione che abbiamo per questo incontro che stiamo preparando e che è il quarto e prelude a quelli che verranno, perché l'anno prossimo ci sarà anche per il Giubileo, poi si sta già sognando per il 26. Insomma, mettiamoci proprio subito in sintonia e ricordiamoci che, come dice il titolo di questo canto, Christ is my hope, Cristo è la mia speranza, Cristo è la mia gioia. Per cui vi raccomando, allora... Per cui vi raccomando, allora...